Tragedia a Ponte Cagnano-Faiano. Antonio Tolino, 76enne residente in città, è deceduto lunedì all'ospedale di Battipaglia. L'anziano domenica sera è stato investito in Litoranea a Ponte Cagnano da un'auto pirata mentre camminava per strada. Il malcapitato aveva riportato ferite guaribili in una ventina di giorni, ma il giorno dopo, lunedì per l'appunto, le condizioni di salute dell'anziano si sono aggravate ed è deceduto. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia e il magistrato inquirente ha disposto il sequestro della salma e probabilmente ordinerà l'esame otoptico per appurare le cause del decesso dell'anziano.